Quanto è importante il contatto con la natura per te e per quanto tempo riesci a stare in contatto con la natura all'interno della tua giornata? Oggi ti voglio portare con l'attenzione e con la consapevolezza a questo e al fatto che se non si ha la possibilità di stare in natura come sono io in questo momento, è questa meravigliosa campagna pugliese o come quando sono sui monti oppure anche come quando sono in città che vado comunque al parco, mi tolgo le scarpe e riesco a mettere i piedi per terra. Ecco io ti voglio far capire quanto tu possa ritrovare la natura all'interno di te stessa perché noi siamo parte della natura come esseri animali, siamo comunque parte della natura tutta, siamo esseri umani con una parte animale e con una parte che è qualcosa che va anche oltre l'animale però siamo sempre collegati a tutto il regno naturale che ci circonda, meraviglioso. Per cui ogni giorno stimolati, datti degli stimoli per ritrovare anche solo un soffio di natura dentro di te che può essere il tuo respiro, che può essere togliere le scarpe e camminare anche in casa tua a piedi scalzi, che può essere sdraiarti a terra, mangiare con le mani, piuttosto che tornare a saltare o a arrampicarti, a fare delle cose ispirandoti di più al regno animale, ai nostri amici animali e ai nostri amici vegetali, minerali, a tutti i nostri elementi terra, acqua, fuoco, aria e spazio infinito. Tutto questo è parte anche del mio percorso 12 settimane per liberarti in cui aiuto le donne a liberarsi dalle gabbie emozionali, fisiche e mentali che le trattengono dalla piena realizzazione di se stesse, da ritrovare la fiducia, l'autostima, l'equilibrio, la centratura e l'armonia per vivere una vita libera e felice. Se sei interessata al percorso 12 settimane per liberarti e ti vuoi candidare alla call di svolta gratuita di 30 minuti, compila il form nei commenti e così potrai accedere alla call in cui mi racconterai più nel dettaglio la tua situazione e se potrò accompagnarti al raggiungimento del tuo obiettivo, ti spiegherò come funziona il percorso 12 settimane per liberarti. Ciao!